Nome e cognome? Gianluca Guerrieri Ruolo? Ruolo esterno A che giocatore ti piacerebbe assomigliare e perché? Eden Hazard perché è rapido, veloce, mi piace come gioca Il compagno di squadra che ti fa ridere di più durante gli allenamenti? Maddalena Quali ritieni essere i tuoi presi e i tuoi difetti in campo? Beh, difetti ne ho tanti, però sono molto discontinuo Numero di maglia preferito e perché? Numero di maglia preferito direi che è il 7 Però anche il 17 mi piace molto Materia scolastica preferita eccetto ginnastica? Beh, questa è difficile Diciamo potrebbe essere storia, storia mi piace Che cosa rappresenta il calcio per te? Beh, una distrazione da tutti i miei problemi E con il calcio mi sfogo e mi diverto Per quale squadra ti fai? Niente Per quale squadra ti fai? Per quale squadra ti fai?